è una bellissima serata anzi non so dove è in questo momento però vorrei veramente ringraziarla perché dopo la pandemia ci ha riportato alla vita quante edizioni hai ripreso? io ne ho riprese tante, non so c'è il mio editore qui davanti che può essere più tecnico di me però tante sì ok allora ti porti via la nostra bimba cantante, bimba sono 16 anni dai ok un applauso a nostra festa della vita 31esima edizione l'abbiamo sentita cantare le pazzesca Giulia grazie Giulia di essere con noi allora due parole su di te sono Giulia, ho 16 anni, vengo da Roma e frequento il quarto anno del liceo musicale del Torino senti ma da grande vorrei fare la cantante e noi te l'auguriamo perché stai studiando tantissimo quindi forza e coraggio grazie mille grazie Giulia di essere stata con noi, grazie grazie a voi 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 grazie a voi